Non solo i due giovani, un minore e un maggiorenne già iscritti nel registro degli indagati. Ci sono altre persone sospettate per l'omicidio di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana, ucciso lo scorso 9 novembre sull'uscio di casa con due colpi di pistola di piccolo calibro. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Brindisi e dalla procura per i minori di Lecce, si sta insomma allargando anche ad altri soggetti, ad altri contesti, ad altre persone che in un modo o in un altro avrebbero partecipato o erano a conoscenza di quello che sarebbe accaduto in via Occhi Bianchi quando alle 18 di pomeriggio lo sfortunato giovane aveva sceso le scale in tuta e pantofole per andare incontro, aprendo la porta di casa, al suo misterioso assassino. Eppure le indagini starebbero rivelando una vicenda più complessa, tutt'altro che limitata al semplice screzio tra ragazzini poi sfociato nel sangue. Intanto nel pomeriggio di venerdì una messa in suffraggio per Paolo è stata celebrata nella chiesa dell'Immacolata. Le parole di conforto del parroco, rivolte principalmente a Mamma Nunzia, invitano ad avere fiducia in Dio nel suo progetto in quell'amore che è più forte della morte.